Musica Ben ritrovati con l'informazione su Telecittà. Tragedia sfiorata questa mattina a Verona. Un uomo ha atteso l'ex compagna davanti al luogo di lavoro, un albergo. Quando la donna è arrivata, l'ha aggredita colpendola con due coltellate al volto ed una al fianco. Le sue condizioni sono gravi. Un passante ha assistito alla scena e ha chiamato il 112 mentre l'aggressore si è allontanato. L'uomo è stato subito identificato dai carabinieri che hanno avviato un'imponente ricerca nella zona dell'aggressione. Con il passare delle ore però l'uomo si è presentato poi spontaneamente. Ora è accusato di tentato omicidio. Venerdì mattina alle ore 11 ci sarà la cerimonia funebre per l'addio a Gilberto Benetton. La notizia della morte di Benetton si è diffusa stamane lasciando dolore e uno strascico di commenti dal mondo del lavoro, della politica ma anche dall'imprenditoria di tutto il mondo. Grande imprenditore veneto, Benetton è stato vicepresidente di Edizione SRL, la finanziaria di famiglia, di Autogrill, era consigliere del gruppo Allianz. Dal 2012 era stato inserito nell'Italian Basket Hall of Fame per i successi con la Benetton pallacanestro Treviso. Da alcuni giorni era ricoverato all'ospedale per una polmonite che ha portato a un peggioramento delle sue condizioni che erano già molto delicate. Lo scorso luglio era morto il fratello Carlo. Si sono concluse nel pomeriggio di ieri le ricerche della donna che era scomparsa dalla sua casa in provincia di Venezia. La signora è stata ritrovata viva dopo giorni passati all'aperto. Ecco il servizio dove vi raccontiamo questo salvataggio. È stata trovata viva la donna scomparsa a mercoledì scorso dalla sua casa in provincia di Venezia. Commoventi le immagini del salvataggio con gli uomini dei pompieri che prima di caricarla sull'elicottero l'hanno confortata e riscaldata. La donna era rimasta bloccata dentro ad un fosso, non riusciva più a muoversi. Per giorni ha resistito, giorno e notte, alle intemperie che hanno anche caratterizzato la giornata di domenica e il cambio di temperature. Una storia drammatica che fortunatamente si è conclusa nel migliore dei modi. 77 anni era uscita all'ora di pranzo dalla sua abitazione di Vetrego di Mirano in provincia di Venezia. Dopo alcune ore la famiglia aveva chiesto aiuto alle forze dell'ordine. Immediato il dispiegamento dei soccorsi per la ricerca delle persone scomparse. Da subito sono state attivate le squadre speciali dei vigili del fuoco, forze dell'ordine e protezione civile. Per giorni l'hanno cercata, setacciando corsi d'acqua con i sommozzatori e dall'alto con l'elicottero dei vigili del fuoco. Quando ormai si temeva il peggio, la donna è stata ritrovata. Sono in corso indagini per ricostruire quanto accaduto a Chioggia questa mattina. Un uomo di 51 anni è stato accoltellato mentre si trovava in corso del popolo sotto i portici. Un'aggressione che si è consumata in pieno giorno e davanti a molte persone. L'uomo colpito è caduto a terra ferito. Soccorso è stato portato all'ospedale. Sul posto gli uomini della questura che stanno ricostruendo la dinamica dell'accaduto. Poco dopo il fatto l'aggressore si è presentato nella caserma dei carabinieri spontaneamente portando con sé il coltello usato per il ferimento. Si è la vittima che il suo accoltellatore risiedono a Chioggia. Altri tre arresti per borseggio in centro storico a Venezia. Vediamo il servizio. Il nucleo operativo della Polizia Locale del Comune di Venezia ha messo a segno un altro importante intervento contro i gruppi di borseggiatori che ciclicamente si ripresentano in città. Dopo l'arresto di sabato pomeriggio, quando due donne e un uomo di nazionalità rumena erano stati colti in flagranza di furto pluri e aggravato sul ponte della Paglia, è toccato ad altri tre loro connazionali di 41, 40 e 27 anni. Sono finiti nella cella di sicurezza della Polizia Locale. Il terzetto sospettato era già stato intercettato dai pubblici ufficiali verso le 18. Uno dei tre uomini restava fuori dall'imbarcadero a fare da palo, mentre gli altri due attendevano all'interno l'arrivo del vaporetto, con il conseguente assembramento di persone in coda per salire sul mezzo. Individuata la possibile vittima, una cittadina messicana con uno zaino da viaggio in spalla, una borsetta a tracolla, un gran trolley al seguito, i borseggiatori sono entrati in azione, aprendo il borsello della donna. Pochi secondi dopo e dopo un brevissimo tentativo di fuga, i malintenzionati sono stati arrestati e portati nella camera di sicurezza della Polizia Locale, dove hanno trascorso la notte. I tre uomini, due dei quali con precedenti, hanno patteggiato davanti al giudice pene comprese tra i cinque mesi e i dieci giorni e gli otto mesi di reclusione. Per tutti pena sospesa e rimessione in libertà. Per uno dei borseggiatori è scattato inoltre il divieto di dimora in Veneto. I carabinieri della compagnia di Abano Terme hanno eseguito due misure cautelari nei confronti di altrettanti cittadini albanesi che vanno ad aggiungersi ad altri quattro arresti eseguiti nel corso dell'anno. L'inchiesta riguarda un gruppo di italiani albanesi che avevano costituito una base operativa all'interno di un capannone a Monselice, in provincia di Padova, per detenervi un'arma frutto di furto in abitazione. Una sorta di luogo sicuro di incontro con personaggi di alto spessore criminale e nel quale la banda poteva dedicarsi in modo continuativo all'acquisto, alla detenzione, al confezionamento e all'accessione di elevati quantitativi di cocaina, particolarmente ricercata sul mercato, poiché contenente un principio più attivo pari all'85%. Cambiamo adesso. Argomento è stato riaperto alle 13.15 il tratto autostradale sull'A4 fra Villesse e Palmanova in direzione Venezia, chiuso dalle 11 di questa mattina per un incidente mortale accaduto in comune di Campolongo-Tapogliano, poco oltre il ponte sul fiume Torre. Secondo una prima ricostruzione sul punto dell'incidente c'era una fila di veicoli fermi. l'automobile si sarebbe schiantata contro un camion che era in coda. Il mezzo si è incastrato sotto al tir e non c'è stato scampo per il conducente. La circolazione è rimasta bloccata a lungo. Purtroppo questo tipo di incidente è abbastanza frequente. Le auto arrivano al punto intasato senza rendersene conto e senza avere il tempo di frenata, probabilmente per distrazione. Parliamo ancora di incidenti. Un 24enne è rimasto ferito in un incidente avvenuto a Montegrotto la scorsa notte. Sentiamo cos'è accaduto. La notte scorsa alle 3.45 i vigili del fuoco sono intervenuti per un'auto finita contro un albero in cui si è sviluppato anche un principio di incendio. Ferito un ragazzo di 24 anni. I pompieri arrivati da Padova hanno subito spento le fiamme mentre altri componenti della squadra hanno soccorso il conducente della Volkswagen Fox ancora all'interno dell'abitacolo. Il giovane è stato preso in cura da personale del SUEM 118, è stato stabilizzato e poi trasferito in ospedale. I carabinieri hanno eseguito i rilievi del sinistro. La procura distrettuale di Catania ha coordinato una vasta operazione contro la pedopornografia online condotta dalla polizia postale Tenea, conclusasi con 15 italiani denunciati di cui un arrestato e circa 200 stranieri che saranno segnalati alle autorità dei vari paesi. L'indagine denominata showcase trae origine da un'attività di monitoraggio sul web e dal successivo rinvenimento su una piattaforma di un paese estero, di un forum con pagine dedicate alla pornografia minorile contenenti immagini di quella natura nonché commenti che istigavano pubblicamente alla commissione di atti sessuali su minorenni postati da centinaia di utenti. Nel corso delle perquisizioni è stato arrestato un indagato di 32 anni residente a Verona poiché trovato in possesso di centinaia di file pedopornografici di rilevante gravità. Il GIP del Tribunale Veneto ha convalidato l'arresto. Perquisizioni effettuate nelle province di Belluno, Bergamo, Bologna, Ferrara, Milano, Potenza, Siracusa, Torino, Verona e Vercelli. È tutto pronto per la 33esima edizione della Venaes Marathon, la storica 42 km che domenica 28 ottobre partirà alle 9.15. Vediamo il nostro servizio. 13.000 persone parteciperanno alla Venice Marathon, giunta quest'anno alla sua 33esima edizione. La maratona partirà alle 9.15 dai giardini di Villa Pisani a Stra e si snoderà in un percorso lungo la riviera del Brenta per poi concludersi a Venezia dove gli atleti attraverseranno il Canal Grande su un ponte galleggiante di barche, sfileranno per piazza San Marco e taglieranno infine il traguardo in riva a sette martiri. Quest'anno all'altezza del centro di Mestre nell'area pedonale il percorso subirà una deviazione rispetto al passato. Gli atleti transiteranno attraverso l'M9, il distretto del nuovo museo multimediale del Novecento. Il Comune di Venezia si costituirà a parte civile in un procedimento penale per peculato che riguarda il legale rappresentante di una società di attività alberghiera. L'operatore era stato rinviato a giudizio per l'omesso versamento dell'imposta di soggiorno riscossa dai clienti dal 2012 al 2017 pari a 179 mila euro. Saputo del rinvio a giudizio, dice Paolo Romora, assessore all'avvocatura civica, abbiamo dato mandato all'avvocatura per la costituzione di parte civile per ottenere il risarcimento del danno. E non si tratta solo di un danno economico quantificato in quasi 180 mila euro, a scapito di un processo di tutela e salvaguardia di Venezia, ma di un vero e proprio danno dell'immagine per l'intera città. Per il Comune nessuno deve pensare di rimanere impunito se infrange le regole. A Venezia vogliamo che la parola legalità non sia uno slogan ma un reale impegno. Le indagini erano iniziati dal Tribunale su segnalazione del Comune che aveva incrociato i dati delle presenze e delle imposte versate. Concludiamo come di consueto il nostro appuntamento con l'informazione dando un'occhiata al meteo. Una vasta area anticiclonica si instaura sull'Europa centro-occidentale accompagnata d'aria asciutta dal nord sull'Italia. Il tempo sul Veneto sarà stabile in prevalenza soleggiato con clima ventoso, specie in quota e temperature in aumento con valori che si porteranno sopra la media del periodo specie nella giornata di mercoledì. Venerdì l'approfondimento di una depressione in avvicinamento da ovest determinerà un flusso in quota da sud-ovest con aumento della nuvolosità. Qualche precipitazione è un nuovo calo delle temperature massime. Poi nella giornata di sabato tempo perturbato con precipitazioni diffuse e consistenti. È tutto anche per oggi per quanto riguarda l'informazione di Telecittà. Come sempre vi auguro un buon proseguimento di giornata. Grazie a tutti.